Sono Flora Caffi Avogadri, mi occupo di marketing e comunicazione alla ISI di Castelvetro Piacentino. La nostra azienda nasce nel 2012 dalla volontà forte di dare all'industria e ai costruttori di impianti un modo agile e sicuro per reperire sul mercato componenti e ricambi per il proprio business con la sicurezza di avere alle spalle non un semplice distributore ma un team di persone competenti e concrete in grado di reperire sul mercato il materiale più idoneo alle esigenze del cliente sia da un punto di vista tecnico che economico. Lavoriamo con Stile Libero da circa tre anni. L'obiettivo di questa collaborazione era realizzare tutta una serie di strumenti necessari al marketing ma soprattutto alla forza vendite per svolgere il loro lavoro quotidiano. Abbiamo rivisto e realizzato tutti i cataloghi divisi per categorie merceologiche e per settore di applicazione, il company profile, il sito internet che è in costante evoluzione, tutta una serie di gadget sia per la comunicazione interna che esterna e proprio quest'anno dei visual board che rientravano in un progetto di rafforzamento dell'identità aziendale proprio nell'ambito della comunicazione interna. Stile Libero è diventato per noi una vera e propria spalla. Abbiamo costruito nel tempo un forte rapporto di collaborazione, abbiamo imparato a capirci, a mettere sul tavolo le competenze di ognuno allo scopo proprio di realizzare il miglior prodotto possibile che rispecchiasse le nostre aspettative e anche gli obiettivi che volevamo raggiungere anche in situazioni nei quali i tempi erano veramente molto stretti. Siamo sempre riusciti a scambiarci delle opinioni che fossero costruttive, che trovassero sempre poi una soluzione agli eventuali problemi o difficoltà che potevamo incontrare sul percorso e alla fine siamo sempre stati molto soddisfatti del risultato. Lo scopo per noi era realizzare qualcosa che portasse sì fuori quella che è la nostra identità, ovviamente che facesse comunicazione da quel punto di vista, ma che fosse prima di tutto uno strumento di lavoro concreto che potesse aiutare sia i nostri commerciali sul campo che anche il cliente nel reperire tutte le informazioni necessarie per poter decidere di acquistare da noi, di scegliere un prodotto piuttosto che un altro. Siamo un'azienda relativamente giovane, davvero in costante evoluzione, quindi il sito così come i cataloghi rappresentano proprio questa evoluzione, lo spostamento del focus dal prodotto all'azienda piuttosto che lo sviluppare una pagina del sito piuttosto che un'altra, il fatto di avere un'agenzia alle spalle che ci supporta e ci aiuta ogni qualvolta decidiamo di modificare leggermente la comunicazione e il marketing ci dà una sicurezza perché ci permette di avere sempre dei prodotti che rispecchino ciò che siamo in quel preciso momento. Grazie